Ristorante Il Melograno, semplicemente memorabile. Trani, via Giovanni Bovi 189. Ok, questa sera con noi abbiamo il piacere di avere Nicola Chiaromonte, delle tenute Chiaromonte, che pensate, hanno vinto il premio come miglior vino rosso italiano, complimenti! Grazie, grazie! L'abbiamo vinto nel 2017 per la vita del piano rosso. Poi siamo stati i fornitori ufficiali per la Casa Bianca. Beh, insomma, siete sbarcati oltreoceano e non potevate non essere anche al Battiti Live. Visita le meravigliose isole Tremiti con la compagnia NL Adriatica. www.navitremiti.com www.navitremiti.com www.navitremiti.com